Dal mitico Ciccio Staro, un applauso. Doveva essere qui con noi, Ciccio è il capogruppo, doveva essere qui con noi Giuliano Comandini, mi dicono di dire quello buono. Giuliano Comandini che è responsabile della protezione civile di mercato Serraceno, ma non è qui questa sera. Vi spiego brevemente il perché abbiamo scelto di consegnare questo premio al gruppo Alpini e protezione civile di mercato Serraceno. Innanzitutto, questo gruppo è composto da 72 persone, tra Alpini e amici degli Alpini, di cui 22 sindicati del gruppo protezione civile. Oltre a essere sempre presente sul territorio locale, ad aiutare tutti noi con azioni di bonifica, con azioni di bonifica di interesse pubblico e naturalistico, oltre a collaborare con le nostre comune e a collaborare con le nostre scuole, facendolo regolare e formazione preventiva in caso di sisma, si è distinto durante l'anno 2009 per il suo importantissimo intervento dell'immediato post per remoto in avulso. Il gruppo è giunto in aiuto alle popolazioni dell'Aquila appena 4 ore dopo il sisma, operando per 110 giornate distribuite da aprile a ottobre. Ci sono occupati della logistica, quindi del montaggio e smontaggio e manutenzione dei campi, nella zona di Sant'Angelo, e grazie al loro intervento, la sezione Alpini e protezione civile bolognese-romagnola, è stata attribuita la medaglia d'olio dalla protezione civile nazionale. Un ringraziamento particolare va da parte di noi organizzatori del Big Fish Day a queste persone che ci hanno aiutato durante la realizzazione del primo Big Fish Day tre anni fa. Senza di loro non ce l'avremmo fatta. Ci hanno tenuto a battesimo. Vero Gigi? Grazie a loro, hanno sofferto un po' della musica. Mi chiamo la Daniela, presidente dell'associazione Big Fish. A prossimi anni il premio per il volontariato Mirko Bartolini 2011. Un applauso, grazie. Io sono commosso per questo premio. Vi ringrazio a tutti. E voi ragazzi, andate avanti così. Se avete bisogno, noi siamo qua. Vi ringrazio a tutti. Il gruppo Pili di Mercato Solageno. Il gruppo Pili di Mercato Solageno.